Cari amici e carissime amiche di YouTube e di tutti i social, un caro saluto da Vincent Lyonard, lampi del pensiero, libero, erotico e quotidiano. Oggi mi ritrovo qui, località Lago, comune di Brienza, in provincia di Potenza. Ammirate e godetevelo questo spettacolo, questo bel faggeto. Mi raccomando, like al video e diffondete il sacro verbo di Vincent Lyonard. Grazie.